Il Nobel per gli studi sulla riproduzione è andato all'egiziano Ahmed Shafik, che ha fatto indossare a 75 topi da laboratorio pantaloni in poliestere, cotone e lana, per testare gli effetti dei vari tessuti sulla loro vita sessuale. Le conclusioni I pantaloni di poliestere hanno generato, a differenza degli altri, un potenziale elettrostatico sul pene e sullo scroto che può spiegare la diminuzione dell'attività sessuale degli animali.